Oggi abbiamo un altro bel contest da annunciare Chat, ho da dirvi diverse cose molto molto belle Questa settimana ci sarà un contest che sarà estratto, cioè vedremo alla fine, la domenica prossima Ma dove ci saranno altri 100€ sempre di PC Hunter Allora se voi volete partecipare a questo contest di 100€ che ci sarà appunto l'estrazione domenica Dovete fare come l'edit map, semplicemente dovete farmi il video dove fate più kill Ok, è semplicissimo raga Taggarmi con chiocciola Exceed Record Ok, ricordatevelo bene Mi raccomando su Instagram Hashtag, che è il cancelletto Exceed Record Quei record di kill che farete in solo però, stavolta in solo E non arena Non arena Ripeto, non arena in pubblica Oggi chi farà più kill in live in solo vs 2 in pubblica Vince 100€ di bonus da usare sul canale di PC Hunter Cioè, da usare sul sito di PC Hunter Vediamo chi fa il record di voro Bella Reve Sei carico? No Stai volendo quindi? L'è da dove? Basta che fai 30kg Ma è lo Yacht Fammi vedere chi fa il record di kill Minimo 5 le voglio, eh, Remo Ma hai visto Marco? Uh, buona aim Che fai? Ma, ma lol Pensavo che fosse la parte sotto Urca La vedo dura Pensavo che fosse la parte sotto Mamma mia Che sudata, eh Uccidine uno, però Dai Oh Bello questo Bravo È il gatto, l'hai sentito? C'è il gatto che fa miau, lo senti? Perché è la skin miau muscolosa Ecco lui, è lui, è lui Mi ha fatto via nel porto Questa cosa è finissima Ma Ma che cazzo? Sì, facci box Sai tu non vi uno contro il gatto, Reve Evo, dai Almeno tu Lui e quanti chi l'ha fatto? Quanti chi l'ha fatto, Evo? Due? Tre Tre Devo battere tre Devo battere tre Vai, tre kill hai battere Vai all'agenzia, dai, Evo Non fare tu Eh, ma l'agenzia non ci sono mai andate No, 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 eh, eh, va Vabbè, manco io lo io Ci vado, ci vado Oh Oddio quanti ha 18 fatto Bravo, Evo Sì, ma non c'è nessuno, mi so Ogni settimana Che è domenica Quando vengo in live sul canale di Exceed Ci sarà Un contest Ok? Che sono 100 euro Dati da PC Hunter Che si possono Che il bonus si può spendere Sul loro Canale Cioè sul loro sito, laga, ok? Quindi se c'è un mouse Voi avete questo bonus, il mouse con 60 euro Voi prendete il mouse E poi magari Che ne so Il tappetino gratis Perché avete 100 euro di bonus Per vincere questo contest però Ci sono delle cose da fare Oggi se partecipate al contest Che avete fatto appena join Dopo viene scelto Quello che farà più kill Quindi chi farà più kill in solo contro tuo Verrà Chi farà più kill in solo versus duo C'è lì pure il player Così lo invito Chi farà più kill In solo versus duo raga Vincerà il contest E quindi vince questi 100 euro E comunque per poter partecipare Bisogna essere iscritti al canale di instagram Ed essere iscritti al canale di youtube Dell'exid Mi raccomando E comunque il tizio che arriva fa 24 kill Win Swick Swick Non so come Si è stato estratto finalmente Nooo Eccolo qua Ho fatto 3 kill però Ho quasi vattuto il record Bravo Bravo Swick Hai pareggiato il record Ho pareggiato io Swick ne ha Swick ne ha 3 Swick e 3 kill 2 È bagatissimo Sì sì è bagatissimo Swick le destra Come sta giocando? Ho una R Goal 4 kill mamma mia Molto forte Swick Attenzione Swick Batte Revenade Incredibile 4 kill 4 kill Goal Mizzica sta facendo il devasto comunque Vediamo se riesce a fare 6 kill Se l'è mangiato Se l'è letteralmente mangiato Ciao te le farà 7 kill È già record comunque Si per me almeno 10 riesce Ci ha messo bene Ho pure ancora da aprire la cosa Vuole andarsi aprire la porta Giustamente Fa benissimo anzi Si da ride Si da ride Si sta divertendo Swick Come vi sembra raga Forte? Ok si forse si Inizica 59 d'HS Si Ma perché stava Fast e build fight Swick è quello che Quasi Fatti il pad modificato Eh no eh Buono Swick No li sta aprendo eh Li sta proprio aprendo Swick Se la merda di vince Se la merda Mamma mia che Mamma mia Li ha distrutti Se li hai mangiati Oddio L'ho aiutato Ma non gli ha fatto danno Dai Non ti capisco Ma non ti capisco Ma non ti capisco C'è spuglio Attenzione Will fight? No Si Subito Sì Sull'altro Giustamente Ci sta Prova Zero Ah ti ha preso Like 8 kill 8 kill Swick Record Ah Swick è morto Ah Ha messato i colpi Aveva messato i colpi Peccato Laga 8 kill Per Swick Swick Sei il vincitore Lo confermiamo Io chat Vi ringrazio Per aver seguito Sul canale di Exceed Mi raccomando Ricordatevi Di fare Il record in solo Fare il video E fare il video Sia su Instagram Basta che fate Cancelletto Exceed record O su YouTube Chioccia Exceed record Mi raccomando Ci sono 100 euro in paglio Raga Fatelo Che domenica Vediamo chi avrà fatto più kill Bene ragazzi Vi voglio bene Ciao 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 Ciao